buon pomeriggio allora aggiornamenti su quanto sta accadendo allora da quanto mi è parso di capire si mettano l'anima in pace alcuni interisti alcuni milanisti alcuni romanisti alcuni napoletani alcuni e tanti juventini anche per l'amor di dio non ci sarà alcuna serie b al 99 99 per cento non ci sarà manco una penalizzazione al limite ci sarà un'ammenda al limite perché naturalmente per soleticare la fantasia di tirapiedi la gazzetta ha detto fino alla retrocessione del sottotitolo dell'articolo poi vai a leggere e che per configurarsi tale ipotesi cioè per dire non retrocessero il chievo in stato fallimentare figuriamoci gli dettano tre punti di penalizzazione in stato di pre fallimento il chievo figuriamoci la juventus dai dovrebbe essere dimostrato che la juve grazie a questi magheggi che tanto dicono è riuscita a iscriversi al campionato cioè quindi vedete a che livello siamo siamo a livello in cui siamo un livello nel quale purtroppo ci tocca subire queste angherie senza che la società si difenda siamo alle solite praticamente però c'è come ho detto si mettano l'anima in pace quanti sognano un nuovo 2006 si mettano l'anima in pace perché non ce n'è numero uno punto numero uno punto numero due che cosa sta accadendo sta accadendo quello che vi ho detto stamattina sta accadendo quello che prima o poi doveva accadere che io già subodoravo due tre anni fa una squadra che vince troppo inizia dal fastidio non fosse altro perché quelle che non vincono i conti di quelle che non vincono cominciano a soffrire è come il sistema non vuol vedere fallita la juventus così non vuol vedere fallite certe squadre fallite o retrocesso penalizzate certe squadre cosa succederà da questo momento da questo momento è bella domanda bella domanda intanto quel coglione del presidente della federcaccio spagnolo ha chiesto provvedimenti da parte dell'uefa contro juve ma i giornali portano solo la juve chiaramente ma li ha chiesto anche contro paris san germain e manchester city vabbè ma ognuno poi campa ognuno parlo in italia campa tirando i piedi perché noi siamo così quando una celle non siamo noi che dobbiamo arrivare a pari livello è lui che deve scendere al nostro livello ma noi siamo siamo questi gli italiani purtroppo non non cambieremo mai ma al netto di queste cazzate cosa succederà adesso la juventus onestamente non lo so io penso che saranno 12 anni di vacche magre sul mercato perché quando mettono mano quei signori lì purtroppo purtroppo è questa la destinazione della juventus nel frattempo sul campo cosa succederà succederà che allegri resterà almeno fino alla fine ha già parlato con cherubini io penso che a questo punto allegri a giugno vada via penso a questo punto allegri vada via e che a giugno veramente non sappiamo che cazzo succederà io penso che a gennaio ci sarà qualche sacrificio senza far nome i due argentini io penso che si darà grande spazio alle nuove leve e questa è una cosa positiva e penso anche che di cui a fine stagione la la squadra la squadra non parlo della società si ponga degli obiettivi nella fattisfedice quarto posto ed europa league questi sono gli obiettivi a breve scadenza gli obiettivi più importanti a questo punto della stagione influirà sta roba sul campo ma io penso possa influire ma in maniera positiva sapete perché perché adesso squadra allenatore faranno ancora più quadrato faranno ancora più gruppo e penso che da gennaio potremmo toglierci da gennaio a maggio ci si potrebbe togliere alcune più di qualche soddisfazione naturalmente parola d'ordine sarà è inevitabile la parola d'ordine sarà la parola che io più odio da qualche anno a questa parte che è sostenibilità è la parola che più odio al mondo io poveri ma belli questo è il sarà il motto della nuova juventus d'altronde il motto degli elkan è sempre questo vincere ma non dar fastidio e io non conosco squadra vincente che non dia fastidio quindi quando io caldeggiavo un cambio di proprietà lo facevo proprio a ragion veduta poi e poi voglio sottolineare l'ignoranza crassa che c'è in giro al netto di qualcuno al netto di qualcuno che è competente perché perché la gente fa il seguente assioma presidente uguale proprietario non è così non è così questo può valere per non vale più non vale manco per il milan questa assioma guardate un po' questo può valere per l'inter e neanche tanto perché presidente è Zhang è Steven Zhang proprietario è Zhang Jingdong il papà questo può valere per De Laurentiis del Napoli questo può valere per commisso della Fiorentina questo può valere per poteva valere per la buonanima di squinzi al Sassuolo questo adesso praticamente i presidenti fanno i gestori ma i proprietari sono altri la Juve era e resta di proprietà Exor era e resta di proprietà degli Elka continua ad avere un potenziale economico che le altre si sognano quindi anche per questo abbandonate ogni sogno di 2006 perché non sarà così cosa succederà adesso questi creeranno i presupposti per tornare a vincere o vorranno vincere pur essendo simpatici no perché se questa è la mission della nuova Juventus ragazzi ci attendono va anni di vacche magre ma davvero anni di vacche magre e la cosa fa incazzare perché dal punto di vista economico c'è la Juve qualche generazione avanti alle altre non c'è il Silvio Berlusconi di turno il Moratti di turno che spendeva chi spendeva bene chi spendeva male non c'è il Sensi che ti paga 60 milioni di lire Cassano il grosso modo i 60 milioni di euro di adesso non c'è il Cecchigori che ti compra che ti compra la qualunque e poi finisce in Serie B la Juve continua a avere la proprietà nettamente più solida del calcio italiano però un conto è la solidità un conto sono i risultati sul campo naturalmente sediamoci aspettiamo perché io spero io spero intanto le notizie che trapelano è che qua arriva il tec tutto sto tecnicume per risolvere anche il discorso della consop sta roba qua ragazzi alla fine questo potrebbe anche non dico rivelarsi una tempesta in un bicchiere d'acqua ma niente di quello che qualcuno sognava la mia preoccupazione è a livello sportivo a livello sportivo come quale Juve vedremo sul campo non tanto quest'anno ma l'anno prossimo perché vi annuncio da adesso io sto aspettando giugno-luglio del 23 perché io do già per acquisita il campionato io lo do già per vinto dal Napoli io aspetto giugno-luglio e poi inizieranno a volare qualche vaffanculo a qualche tifoso juventino che non vedeva l'ora di liberarsi di Andrea va bene va bene dato che io essendo pugliese ho vissuto stavo dicendo spero che abbiano ragione tutti i juventini contestatori di Agnelli spero abbiate ragione spero vivamente io da juventino è chiaro che non voglio il male della mia squadra e spero che abbiate ragione ma se l'antipatia per Agnelli Andrea si rivelerà come l'antipatia mostrata per Allegri e allora qui siamo freschi davvero perché e poi farò un video anche sul discorso campo dopo le partite di domani poi farò un discorso sul sul campo sui giocatori a giugno a luglio ci vedremo io per quanto riconcele il mister ho già dato appuntamenti a tutto al 4 di giugno a tutto il 4 di giugno giugno a luglio ci diranno che Juve vedremo l'anno prossimo perché poi tutti questi che adesso fanno i puritani quest'altro tutti questi che vogliono vincere che danno più peso alle parole degli interisti che quella della loro squadra poi faremo i conti poi faremo i conti e fermo l'estano che io spero sempre abbiate ragione altrimenti ne vedremo delle belle e delle brutte per quanto riguarda la Juventus certo è che questi mettendo dei tecnici al momento di nomi competenti per quanto riguarda le questioni campo non ne sto sentendo il che è tutto dire il che è tutto dire a me questa logica dei poveri ma belli da me dal cazzo così questa